Di nuovo sulla terra del Nuovo Messico e pronto a raccontare l'esperienza straordinaria di infrangere il muro del suono volando giù dai limiti dello spazio. Felix Baumgartner, 43 anni, racconta come questa impresa straordinaria lo abbia davvero riportato con i piedi per terra. Quando sei lassù sul tetto del mondo diventi così modesto, racconta Baumgartner, così umile che non pensi più a segnare nuovi record, non pensi a raccogliere dati scientifici. L'unica cosa che vuoi è tornare a casa vivo perché non vuoi morire mentre i tuoi genitori, la tua ragazza, migliaia di persone ti stanno guardando. E' la cosa più difficile che io abbia mai fatto finora questa e penso proprio di fermarmi qui.